Per me rientrare a frequentare la Sdabocconi dopo questo lungo periodo di lockdown ha avuto un significato molto importante sia a livello proprio personale perché è proprio l'espressione di come in realtà una realtà come Sdabocconi esprima sostanzialmente la possibilità di ricominciare, innovare e procedere nonostante le difficoltà e come gestire e affrontare le criticità. È stato un grande rientro, una possibilità molto bella di poter tornare a frequentare di nuovo. L'ho provato una bellissima emozione, se vogliamo una sorta di liberazione. Sono stato felicissimo, mi sono sentito non dico ordinato ma libero, vivace e carico. Tornare in Sdabocconi dopo tre mesi di lockdown ha per me un significato di ritornare a fare quelle cose che fino a qualche mese fa erano assolutamente la normalità, quindi è un po' uno stimolo a ripartire con tutte le attività della nostra vita quotidiana. Il grande senso di libertà di averlo potuto fare è stata una grande sensazione. Ha fatto un po' effetto primo giorno di scuola, per di più anche coinciso con l'ingresso del corso all'interno del nuovo campus, quindi una doppia emozione da quel punto di vista. Oggi ho visto il campus per la prima volta, sono rimasto sbalordito, è bellissimo. Ovunque ti giri vedi moltissima tecnologia, avanguardia. Ho trovato in questa struttura qualcosa di molto arioso, molto aperto, molto luminoso. Il primo aggettivo che mi viene in mente è wow, molto bello, veramente innovativo. Il nuovo campus per gli spazi, per le superfici, per i volumi con i quali è stato progettato sembra l'ideale per il distanziamento sociale e per questo nuovo modo di lavorare. Gli scanner all'entrata, i percorsi di entrata e uscita sulle porte. Ci sono i distanziamenti sociali, sia a livello di corridoi che di aule, quindi i posti sono assegnati, vengono utilizzate le mascherine. C'è un'ottima segnaletica che ricorda quali sono i comportamenti da tenere e da non tenere. Quindi assolutamente molto tranquillizzante. Mi sento più sicuro che a casa. Da Bocconi ha messo in campo una serie di opzioni per permettere proprio tutti i partecipanti di usufruire dei nostri corsi come meglio ritengono opportuno. Chi vuole può venire assolutamente a un campus, chi ha ancora qualche perplessità può tranquillamente seguire i nostri corsi online con lo stesso grado di efficacia della frequentazione a un campus. Siamo riusciti a garantire innanzitutto un pieno apprendimento da parte di chi è a distanza ma abbiamo garantito anche quel valore aggiunto che per noi è fondamentale di interazione tra docente e partecipante sia in presenza sia a distanza. Dalle lezioni web abbiamo imparato a gestire delle modalità relazionali diverse però devo dire che entrare in aula e interagire con i tuoi colleghi, con i tuoi compagni, con il professore tutti sullo stesso piano è assolutamente un valore aggiunto. Abbiamo fatto grossi investimenti in tecnologie, chi è lontano può comunque intervenire vede l'aula, vede quello che è scritto sulle nostre lavagne, partecipa alle discussioni, può fare domande quindi non vedo più una grossa differenza fra le due diverse modalità.